A fettine va tagliata e in ammollo va lasciata Tento al latte ben coperta come fa la cuoca esperta Che altro può fare felice di lei Farfalù? Magari le piace ballare? Amica Cibi sa ragione, provare danza Farfalù! Esca, si, balliamo! Dai, balla! Ma che divertente! Ed ora che si apra il sipario! Grazie! 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 Grazie!